lì è il treno eccolo là ma va troppo veloce per essere un vapore ma te l'ho spiegato il perché va più veloce perché c'è il diesel davanti il diesel ha le scmt avendo le scmt lui può andare fino a 100 all'ora poi conta che hanno anche una vaporiera che può fare i 100 sul groppone ma sì sì lo becchiamo steffi guarda il passaggio è aperto se vuoi farlo in seguimento si devi essere veloce guarda sto entrando in stazione adesso adesso mi sembra che forse sta fossano voglio fare un video anch'io lì sotto ma l'ho fatto io steffi tranquilla quello sto inseguendo adesso segnale rosso perfetto allora si può scendere si può scendere adesso andiamo a aspettarlo un po' più avanti eccolo lì dove è un po' più avanti che senso proprio avanti dove nella zona industriale verso la conigi è buon buon lì è buon eh eh già guarda che bravo tu sei la guarda che Grazie a tutti.